e bello a tutti ragazzi sono salvi venuti in questo nuovo video e oggi siamo su fornites come sempre fornites cerchiamo di arrivare a livello 100 almeno in video perchè i live non ci sono arrivato mi sono messo mindcake perchè è una skin davvero bella raga me li posso shoppare ma io non voglio shoppare perchè no così almeno poi mi rimangono webapps quindi e poi se me lo shoppo in senso si è bello però se combatti è meglio forse io non voglio shopparmi raga comunque ok raga spero di arrivarci senza shoppare raga andiamo devo pensare dove andiamo già come tanto tempo sta schermata gli faccio una fotografia raga ok ci siamo raga andiamo vediamo dove andiamo andare parte da qual gusto non lo so vabbè andiamo comunque a soborchi anzi no andiamo al parco pacifo raga mi accorgisci conti raga ci rompo lei so ok quindi andiamo al parco pacifo raga dai speriamo di marci senza shoppare livello 100 raga ci sono pure il numero delle persone 100 e io devo rimarci andiamo a fare qualche missione qua devo andare non vado più all'ora allora perchè devo fare la missione andiamo all'ora non vado più a porco pacifo allora perchè devo fare la missione devo spendere i ricotti da mortafiamma comunque oggi oggi il video di poveriggio vabbè così tre giorni due giorni ho cercato sempre di pomeriggio alle due mamma non mi ricordo che sono vabbè andiamo da mortafiamma dove erano detto qua ok perfetto raga ma raga non ce ne sono qua no eccolo eccolo raga devo spendere solamente un pochino di ningotti per fare la missione allora eccolo lo faccio raga lo faccio oh non ho comprati due raga sono un pochino stupidino per me non ho comprati due scusate solamente tre lingotti adesso scuota raga non ho comprati due non ho comprati due non ho comprati due non ho comprati due vabbè in questo caso c'era il pompa con la revolver non ho comprati due non ho comprati due raga ho comprati due raga forse la faccio faccio full vabbè sto salendo di nuovo con i lingotti prima ne aveva 800 vabbè 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 ci so con lauro tam questa cosa di quello non ho trovato raga mi ha caputissimo un'uccisione magari c'è un nemico e ci arrivo sicuro ho visto qualcosa è così il nemico raga sento sparare pure e ci arrivo non è uscito vabbè raga che ti dimmi d'avevo raga mi ci credo se non me lo mi ha dato lo stesso perchè ogni tanto si bugga non mi dà lo stesso la ricompensa non so come mai vabbè anche lei me l'ha dato lo stesso vabbè non lo so vi ricordate la live che ho fatto ieri sera ancora non ancora non me l'ha dato vi ricordate la live che ho fatto ieri sera con l'Alberto andiamo facendo uno shop bello raga non mi dà lo ce l'ho giocendo raga raga e questo si fa ti fa la nuova sì che sono raga sicuramente raga mi shopperò il pass è ovvio che ci sono nello shop tranne con le vecchie 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 raga non ti ho capito lo 2 me nello shop il pass io però non ti ho capito lo 2 E poi ce l'avete manche Scrivetevi sotto nei commenti Se l'avete manche E dai poveri Raga andiamo allora A fare qualche musica C'è un altro Allora Allora andiamo Andiamo a gatto Raga A me non è venuta questa idea Di arrivare Di cercate a livello Raga C'è che mi manca pochissimo L'arrivo a livello 99 Raga Se arriva a livello Centro in video Nella guglia Non c'è una partita Qualsissima Nella guglia Allora raga 24 Raga mi danno Tanti esperienze Quindi ce la faccio Beh Siamo canta Non bebi Sarca Raga Scusate Non la canterò Non la canterò più No No a tre volte Che sfortuna Vabbè Livello 99 Raga Si ce l'ho fatto Livello 99 Sono riguardo E guarda Livello 100 Ragazza Guarda Adesso Possiamo In via Di livello Livello 100 44 Raga Sono senza Ringozio Vabbè Raffo Musco Dio Sei pronta A pushare Che tu che quando Spari Vittorio Ora che canto Le parodie Vabbè Perché Non ti ascolti Una musica Che fa Pa 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 Musica Che fa C'è Una cassa Shop Amico Brawler Ah Perché Scusate Raga Ma Stasù Non si è Un nemico Raga Sento Un nemico Perché Mi avevo portato Ma Ho fatto Ho messo Io Ho fatto Una fotografia Sei ciotola Qua Miascolo E Kit Penso Che Quella Piccola Adesso Prima Della Sefa Devo andare Lì E poi Allo Squalo Mi sembra Un'auto Però Raga Questo è Un problema Un gatto Mi ha lanciato Un'auto Ah Forse La Poi Se va Via La Grotta Prima Che Che Poi Della Tempesta Ma Ma Kit È morto Raga Scusate Perché Non c'è Più Kit Il Tattico Anche Se è Verde Poi Nonno Raga Però Stavolta Mi tengo Il tablet Raga Scusate Il Tattico Stavolta Non mi Scioppo Niente Perché Stavolta Non mi Scioppo Non mi Compro Nessuno Nel Incotti Perché L'ho Poggi Devo Mettere La Mezzina All'auto Raga Ah Già Cento Perfetto Allora Devo Andare Alla Grotta Oh No Nemico Nemico Ora Abbasso Nemico Deve Morire Nemico Ovviamente Vabbè Adesso Prostima Via Prostima Via Dai Raga Devo Di L'uomo Cento Perfossa Vabbè Raga Tornerò Perché Ho sbloccato I Vibabs S Raga Non c'è Debo Di Mescolo Cartoon Quello Quello Che Fai Con I Mus Ma Io Non Ce Lo Muscolo Cartoon Livello 400 Prossima Via L'or Non me Lascio Puro E Cambio Scheme Metto Questa Che Non l'ho Mai Fatta Vedere Il Video Questa Qua Stile Ok Banano Raga Banano Spero Spero Ce la Faccio Un video Assassino Della Guglia Sto Arrivando Abbastanza Sto Sto Cosa Andiamo un pochì Adesso c'è scritto c'è scritto questo oggetto Ho visto ma li ho vabbè da questa partita vado a vedere Non dire che cosa fa 300k abajo ma sono sognato di sicuro è un possibile mille con cento costa raga sono sognato perchè pensavo che c'è scritto quattro no 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 c'è scritta questo oggetto magari un gusto male possibile costo magari magari anche bardoria ma dov'è bardoria raga ho perso bardoria no eccola guardate allora ecco raga c'è scritto che mi sono 08 12 bello 99 raga voglio raccontare una cosa un amico mio no jacopo ha fatto pure il video con me ha detto no che un amico mio no un amico suo che uno si infliggeva a me vabbè solo solo non c'è mi hanno in lutto e poi vado alla grotta e poi vado a scuola in fretta un'arma solamente cerco di cercare un po' un po' e poi è perfetto mi serve un po' un po' beh raga scusate non mi devo arrangare devo andare adesso le missioni potrei potremmo potremmo inizio le raga solamente cosa ne avrà sicuro vabbè sono rimasto con poca vita devo andarne prima che muoio stiamo in un paio di munizioni però raga dai raga spero che trovi un po' di munizioni raga spero che trovi un po' di munizioni raga spero che questa partita arrivo a livello 100 ma non credo ok questo non ha di più devo correre la grotta ma non ci sono auto aggiustata non ditemi non ditemi mi dovrò arrangiare con un camion ma non non ci sono no ma non ci sono da carburante non ci sono 60,000 Siamo quasi attivati Cagno, resisti Sì, com'è, chi ma? Non me l'ha data quella di... Oh no, non me l'ha data quella di cazzo grillo Oh no Non ho più poca vita, è vero Adesso ne ho un pochino di più Voglio che l'ara piccola, raga, non posso Questo qua mi sta facendo solamente perdere il ammo E perdere le munizioni Adesso devo correre al gatto grill e poi devo andare allo squalo Solo per l'emissione, solo per arrivare a livello 100 lo sto facendo Raga, e se arrivo a livello 100 sentite urlare, scusatemi Sono io sempre Raga, mi servono i munizioni però, spero che al gatto che ne troverò C'è un'auto, perfetto Vado al gatto grillo, prima che muoio dalla tempesta Munizioni, raga, perfetto E non so perché non me ne avete prese Mi servono i munizioni Ho tre kill già Oh, perché non me le prende? Oh no, raga, la tem... No, ma raga Che cavolo? Ma mi si è rotto il tasto? Raga? Raga si è buggato? Perché? Scusate raga Sono... Raga ma si saranno buggate Perché io se lo faccio così La prendo E io sono sempre lo stesso tasto, raga Ma come è possibile, raga? Vabbè, tutto ciò mi devo spiegare Oh no Sono un gatto grillo Dammi sta missione Che non me l'ha data, raga? Sono un gatto grillo, però Raga, si è pagata la missione, se vero Eppure il gioco La macchina Raga morirò Oh no Addio, raga Addio, raga Addio, addio Ecco Ma non c'è nemmeno? Vabbè, raga, mi faccio nemmeno Raga, dopo questa Questa, dai La, v'amore un'intra La, v'amore un'intra Addio 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 Questa è una partita, raga Fai la ultima partita, dai, raga E' raccoglioso il lavoro non sono uscito a fare. Questa volta andiamo a Parco Pacifica perché mi ricordo che a Parco Pacifica ce ne sono una cassaforte. E mi manca l'ultimo sblocco 24 che espira dall'esperienza. Quindi vado a Parco Pacifica, apro con la cassa perché io ci sono già stato. Apro con la cassaforte, farò una missione. Apro con la cassaforte, quella casetta piccolina non mi costa molto, raga. Però mi devo sbrigare, raga, perché è tardi ormai, raga. E' da tanto che c'è un video. Da un po' di tempo. Da 22, già 22 minuti. Quindi dobbiamo sbrigarci. Questa volta andiamo a Parco Pacifica. A Gatto Bill non so perché non me lo fa. Ah, perché forse è mandato a scuola, poi a Gatto Bill. Può darsi, o no. Ma se vuoi, dove è nessuno, raga, allora? Perfetto. Speriamo, raga, che ci riesco. Scrivetemi nei commenti anche, rada, no? E da che cosa giocate, se volete sempre? Da Switch, da PC, da PlayStation 4, da PlayStation 5, da Xbox? Scrivetelo nei commenti, se volete. Se no, non fa niente. Sto atterrando. Ma perché canto sto borso? For dimmi che c'è, dimmi che c'è, dimmi che c'è, dimmi che c'è, dimmi che c'è la cassaforte. Per favore, dimmi che c'è, non me la fregano. Dimmi che c'è e non me la fregano, Epic. Epic! Dimmi che c'è! Non c'è. Raga, sono rimasto con uno di vita. Secondo me non c'è. Ecco, perfetto, raga, adesso con uno di vita non c'è, quella. C'è un nemico, mi ammazza. Un nemico in un secondo, adesso, raga. Qua non c'era. E, raga, sono morta. Ditemi che l'ho ucciso, ditemi che l'ho ucciso. Ma io dall'alto. Dai, raga, stavolta ci deve, raga, magari in questa partita non c'era. Dai, raga, l'ultima partita, per forza, raga, se non... Se non ce la faccio in questo video, ce la faremo, allora, nel video, in un altro video. O stasera, poi vediamo, raga. Dai, raga, voglio sapere chi ore sono. Sono già le 5-7, dai, raga. 25 minuti in video. L'ultima partita, raga. A porco pacifico mi vengono un botto di persone. O l'ultima due partite, allora. Almeno di quel 99 ci sono arrivato, raga. Sto facendo un po' schifetto, in questo video. Perché sono morendo subito. Per favore, ditemi, ditemi che non va nessun altro, porco pacifico. E anche se l'altra senta la casa, lo sento. Ce la farò mai. Non ce la farò mai, raga. E' un botto di gente a porco pacifico, sempre. Ma proprio in questa casa devono venire. Non è obbligatorio, nemici, eh. Potete andare anche da altre zone, secondo me. Potete anche, nemici. E lasciate stare quelli che vogliono fare le missioni. Così mi fate un favore, nemici. Non c'è... Raga, mi ricordo che c'era qua. C'era qua, in questa casa c'era, raga. Raga, in questa casa c'era, no. C'era... La passaporte, raga. In questa casa c'era. Mi ricordo... Che c'era. Raga, mi faccio schifo io. Non è vero. Sto scherzando, raga. Sto scherzando, raga. Scusate, sto scherzando. Per dire, l'ho detto, raga. Sto scherzando. Ma oggi, in questo video, sto facendo un po' schifo. E un po'... Io non so che sono scarso in questo video. Ultima partita, raga, per forza. Questa volta andremo a trovare i libri. Corso commercio, ragazzi. Dai, per favore. Raga, voglio arrivare velocemente. Mentre oggi, raga. Me lo posso shoppare pure, no, raga? Ma non voglio. L'ho già detto prima, vabbè. Che fai? Raga, ho fatto qualcosa. No, vabbè, non si dai né sul fornetto. Non te cosa vuol dire. Stavolta dobbiamo andare... Qua. Ancora il ping preciso. Metto il ping preciso. No. Non è preciso. Ok, più o meno. Stavolta ce la devo fare. E poi dove vado io, vengono i nemici. Non so perché, raga. Dove andiamo, raga? E scusate se sono un pochino scarso in questo video. Ma cerco di arrivare a livello 100. Raga, raga, se c'era scritto e poso il livello 99, livello 89 mi rende rossi, ma arrivò il 99 c'è scritto, raga. E non voglio permettere, non voglio permettimi a consumare i V-Paps. Ma tutti i nemici da me vengono, raga, vero. Libri. Libricini. Sono morto. I nemici. Forse no. Perché qua sono un'armi. Allora, se ne ho una, me l'ho ucciso. Ho fatto una missione. Ho fatto missione. Ho fatto missione. Ho fatto una missione, raga. Già da 30 minuti che siamo in video. Scusate. Devo trovare quel libro a tutti i costi. Sì, non ho niente missione. Devo trovare. Devo trovare. Devo trovare. Staccato, non c'è. O no. O se? Devo trovare. Pampampam. Hai, raga. Non lo tobero mai. vado al lago vediamo se c'è il lago ah raga per cazzo non c'erivo stavolta dove faccio l'ora stasera sicuro non posso fare altre partite scusate se sono stato un po' scarso scarso che sono stato un pochino un pochino nabbo ma capitemi per arrivare di velocento lo faccio senza il gruppo sono aperto in silenzio mi sono aperto scusate se non stiamo parlando dai devo trovare quel libro raga a tutti i costi devo trovare quel cavolo di libro sto girando dappertutto non lo sto trovando a nessuna parte senza il gruppo c'è un nemico ti ho visto non puoi scapparmi ho sentito la granata ma non mi ha colpito sono eliminato non sto trovando quel libro sono spacciato non riuscirò a fare più la missione non regali te come ti chiami è turino c'è un nemico l'ho sentito che mi ha sparato oh aio 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 e pecca di questo e questo no moirò non è vero comunque si è un buon loot mi posso curarmi c'è già il 5 kill sto migliorando devo trovare quel libro raga sai che faccio vado a parco pacifico allora è l'unica è l'unica soluzione non riesco a passare si si un altro nemico yeah ecco perché non posso ok stavo passando raga andiamo a parco pacifico devo spiegare prima che non è più in safe mi sono sicura volevo dire spegni radio raga scusate ok non è ok raga aiuto ok aiuto oh no volante ridotto aiuto raga aah raga raga meno se ci vado in via a piedi anzi mi ci vado col motoscavo no non ce la faccio raga oh no raga si può dare niente con la missione allora devo fare devo fare quanto ci ho fatto allora raga senza mirare l'ucciso raga incredibile scusate se questo video dura molto raga cioè allora raga dopo questa partita devo chiudere il video perché se no dura troppo raga poi ne parliamo allora stasera spero spero che risfaccia il video stasera ma non so quando lo pubblico spero adesso se adesso si vorrà la della pubblica adesso siamo al pubblico adesso scusate ogni tanto sono pazzo raga scusate veramente scusate i 38 minuti raga non volevo non volevo veramente sa bene dove le trovo ah qua devo fare vabbè no forse riesco a farle una quella posso sentire nella top 10 no non ce la faccio perché ho 81 ho 81 dove le guarda da 100 e si ne dai mi creo l'arco lo ando tutto non fa niente peccato raga guardate quanti mi andavano spio abbatti alber ce la posso fare raga scusate già quasi 40 minuti scusate che mi ricordava di lei ero fuori da poco non penso in silenzio perché non me la dà sì perché me lo sta dando per fortuna lo vedo ai 250 239 ok 140 140 141 142 143 ci sono altri alberi o no o no la seifo la tempesta mi sa devo battere alberi devo alberi alberi di il 142 156 156 e nientro mai raga con la missione non ce la riesco a fare scusate se non stavo parlando raga scusate ok raga battiamo questi alberi dai a quanto sono? si l'ho fatta dai raga ce la devo fare no raga la rana se ne è volata via la rana la rana scusate raga l'ho imparato male raga scusate 42 minuti raga scusate meravente me ne volo via non lo fa con me beh no con l'arte quello che lo fa beh con i miei con i miei sono con gli nemici serve ok raga dai speriamoci qua è morto qualcuno c'è un ninja non è morto non è morto bravo non è morto e non è morto non è morto ma è morto abbiamo messo in quattro raga spera a me è una vittoria reale raga speriamo dai una vittoria reale se l'ha bancava andiamo a prenderci la droppa raga giù da 43 minuti raga esagerato proprio sto colpendo il cielo tranne la droppa però sto prendendo tutto cielo tranne la droppa un nemico raga me lo sento perché c'è quegli simboli eccolo infatti c'è l'altro forse non so ma forse l'altro non c'è devo farmi il medikit raga lo accaro solamente due persone con me tre c'è lo scildino ok la è troppo atterrato un arco meccanico d'onda d'urta ce l'avevo già ce l'ho già anzi sono al massimo di munizioni di cerchino raga dai per favore morite nemici così io posso uccidere l'ultimo nemico il rimanente ne mancano solamente ne mancano ancora due se qualcuno fosse morirebbe perché non muoiono la tempesta ci sono due con gli amici vabbè oh perché non sto mai zitto mi stanno sparando mi stanno sparando raga raga da dove mi sparavano? dai nemici però ma devi vedere nemici tattici no raga che sfortuna vabbè eccolo non devo colpirlo con l'arco è possibile lo vado a pussare raga si vede spero che lo mi fa cadere ok è caduto lui si è buttato ansia oh no mi sa che non sopravvivo raga mi sa che non sopravvivo mi sa che non sopravvivo non devo distrarmi raga eccolo no peccato raga ragazzi devo chiusare il video spero tanto che questo video mi sia piaciuto lasciate un like tipo della campanellina e al prossimo video e spero stasera ciao 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 ciao